ciao amiche di filo oggi voglio fare qualche considerazione in merito alla borsa pasticcino tutorial 685 che trovate qui sul canale questa è stata cucita in diretta questa borsa l'ho cucita in diretta ed ho praticamente realizzato il cartamodello insieme a voi e in maniera estremamente semplice e poi l'ho effettivamente diciamo assemblata e questo risultato diciamo che veramente molto 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 carino però nei commenti ci sono state alcune considerazioni quindi voglio adesso darvi alcune indicazioni in più la prima cosa che avete notato che qualcuna dice non mi piace il filo in evidenza quindi in questo caso vedete io ho fatto questa cucitura considerate che non sono neppure esperta diciamo del cuscito manuale e si vede così dice no non mi piace questo filo che si vede io personalmente se non vi piace il filo che si vede vi dico di prendere le cerniere che non hanno la cucitura l'alternativa è quella di passare il filo di nylon ma in quel caso comunque è vero che non si vede il filo ma si vede comunque si vedono i forellini quindi diciamo questo qui poi se utilizzate un filo in tinta secondo me non ci sono assolutamente problemi questa era la prima considerazione che più di qualcuno ha fatto altre amiche hanno detto per come hai realizzato la borsa ci può essere un inconveniente adesso tolgo l'imbottitura che ho messo ci può essere un inconveniente cioè scusate cambio anche un pochino ok se metto all'interno degli oggetti che possono essere insomma io adesso metto questi qui pesanti per simulare gli oggetti da mettere in borsa e come vedete ho messo abbastanza pesante dice la borsa tenderà ad affrosciarsi in realtà ecco si vedrà così salvo puoi mettere qualche altro qualche altro oggetto voluminoso e non particolarmente pesante come si può ovviare dalle considerazioni che avete fatto nel video dice c'è una rete specifica da mettere su questa parte qui proprio per evitare che si afflosci io personalmente non l'ho mai applicata questa rete però vi posso dare un consiglio a quel punto forse il caso di mettere qui in basso questo rinforzo qui che veramente è strutturante ed è il decoville ed è molto molto sottile quindi potete mettere il decoville qui io lo prendo sempre da da fiorella quindi da tessuti delle meraviglie vi lascio comunque diciamo il link qui sotto lo potete prendere con il buono sconto oppure e poi invece la parte che riguarda proprio la borsa si può mettere un rinforzo su questo tessuto quindi la classica teletta con una grammatura almeno di 40 ma anche 60 direi e in più questa imbottitura piatta qui di cotone che spesso ho utilizzato nei miei lavori quindi la parte alta mettiamo questa più questa qui e nella parte bassa se proprio vogliamo rendere questa parte rigida anche se io tutta questa deformazione sinceramente non la vedo potete mettere il decoville il decoville sulla parte alta potrebbe essere un pochino qui potrebbe dare qualche piccola insomma potrebbe essere un po più difficile da lavorare o comunque poi quando si fa la cucitura evitare di portarlo fino alla parte alta quindi diciamo va fatta qualche considerazione in più se decidete di mettere il decoville su tutta la borsa quindi ho risposto a questi piccoli dubbi che c'erano da parte vostra l'alternativa invece potrebbe essere quella di utilizzare un tessuto un pochino più robusto e quindi poi mettere comunque di rinforzi questi qui che vi ho detto casomai utilizzare un mezzo panama un panama oppure un bel goblin ovviamente in quel caso io metterei solo la teletta di rinforzo senza l'imbottitura per evitare di creare poi uno spessore eccessivo qui sulla parte alta e quindi questo qui per quanto riguarda la parte interna qui dove io ho rifinito vedete il file nero non è proprio il massimo da vedere però se voi siete più precise oppure se proprio il file in tinta potete lasciarlo ma io comunque penso che si debba uscire si debba coprire questa parte qui allora vi consiglio di prendere questo tipo di di decorazione del colore adeguato io adesso non ho dello stesso colore nel mio caso sicuramente beige potrebbe essere il colore giusto e si va ad applicare così esiste la colla specifica per tessuti o la colla siliconica poi questo non sfilaccia neppure alla fine quindi applicare questo in maniera semplicissima a partire da qui e fare praticamente tutto quanto il giro proprio sulla parte cucita e la borsa viene perfetta quindi questa è la borsa pasticcino per le amiche che hanno perso il tutorial lo possono tranquillamente reperire qui sul canale è il tutorial 685 borsa pasticcino e niente la potete fare più grande più piccola come già vi ho detto all'inizio vi potete veramente sbizzarrire ricordatevi chi è di cara moda quindi per le amiche che la vogliono anche vendere secondo me è un oggettino veramente molto molto carino quindi spero di aver soddisfatto la diciamo di aver completato in qualche modo quello che era il tutorial della borsa e vi ringrazio di vero cuore per le informazioni che avete lasciato sotto al video se avete altre indicazioni da dare le potete lasciare anche sotto a questo video qui poi io le metterò nella casella delle informazioni quindi quello che vi ho appena detto lo trovate anche nella casella delle informazioni del video tutorial della della borsa ricordatevi di guardare sempre nella casella delle informazioni perché cerco di mettere sempre qualche notizia che può essere utile amiche come sempre vi ringrazio vi saluto vi abbraccio e vi invito a vedere il prossimo tutorial a presto a presto